Ecco che arriva il veterinario con un certo Ross dell'Asso mi sembri più veterinario di quello della Pardo Montenegro le cose secondo me fra poco se lo prenderà acqua e tutto l'unico ecco il papà, il papà è certo è stato a nascere è nato, è nato è un maschio 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 ma non lo distraete è un maschio 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 è un maschio